Ah, voglio i pescioni, Dunis! Prendili, prendili, che dobbiamo mangiare! Eh, dobbiamo mangiare, forza! Eh, intendo, ma non me li prende, cioè, sono duri da picchiare! Eh, lo so, sono duri! Vabbè, tu picchia meglio, picchia, forza, forza, aspetti! Eh, non li prendo, sono immortali! Mannaggia, i pescioni! Mannaggia, non mi sto con uno sputo, è morto! Ok, allora, praticamente, Nick, praticamente, noi siamo naufragati, non so se lo sai, perché tu sei svenuto, purtroppo, perché ti... Allora, praticamente, dovevi sapere questo. Io ti ho dato una legnata in testa e in barca, perché non la smettevi più di urlare, perché ti cagavi addosso, perché c'era una tempesta come queste. E quindi ti ho fatto svenire. Però, non ti ricordi più niente. Sì, siamo arrivati su quest'isola deserta, infatti adesso dobbiamo sopravvivere! E qua c'è già una tempesta, veramente grandissima, che... Ma cos'è, un tornado? Eh, potrebbe anche essere un tornado, sì, allora, qua siamo su un'isola deserta, quindi siamo in alto mare, praticamente. E qua ci sono i tornadi, probabilmente, quindi devi iniziare, praticamente, a prendere del legno. Io vado un po' in giro a trovare... Ma io già sete! È normale, bevi dal mare, lo so, per ora ci dobbiamo accontentare di questo. Infatti, se io premo, diciamo, se io premo questo pulsante, praticamente, mi si apre Better Animal Plus. Praticamente qua ci sono tutti gli achievement che io posso fare. E quindi uno degli achievement sarebbe, tipo, un place, un sucking, che non so che cosa sia, ma fidati che è una cosa... Eh, dimmi. Spaccato mani in udeleni e non mi ha dato il blocco. Oh no, perché abbiamo bisogno di altre cose, giusto? Abbiamo bisogno di sassolini, che però qua non si troveranno mai, io non sono sicuro. Sai perché non si trovano, Nick? Perché? Perché ovviamente questa isola deserta è un po' roccia, è un po' stupida. Cioè, ovviamente, no? Allora, Nick, ho trovato gli attrezzi del mestiere. Sì, funziona, vedi? Io sono un genio, praticamente. Ok, tu... Bravissimo! Sì, sì, sì. Utilizza queste cose. Come si fanno a raccogliere? Vabbè. Non lo so. Utilizza questi aggeggi. Io vado in miniera perché, praticamente, così trovo assolutamente delle cose utilissime. Come, per esempio, la pietra. Oppure il ferro. Il ferro può essere utilissimo per trovare un secchio. Almeno, per craftare un secchio. E poi, dopo, chiaramente, purificare l'acqua nella fornace. È una cosa molto utile. Ho visto io, con i miei occhi da cavallo, nel libro della sopravvivenza di Beverly Hills, o come caspita si chiama. Vabbè, non lo so, sinceramente. Però tu devi parlare, devi parlare. No, ma perché sto provando a raccogliere il legno, ma è un po' difficile. Ma che caspita vuol dire? Ma parla senza... Eh, ma perché c'è tipo un tasto strano. Eh, sì, lo so. Come vuol... No, ah, ho capito. Sì, perché forse... Certo, col dio. Boh, vabbè, non lo so. Che cosa intendi con tasto? Una maniera strana forse intenderai. Sì, esatto. Allora, oh, guarda, c'è una capra. Aspetta che adesso l'ammazzo. Capra, vieni qua, capra, capra. Allora, questi, i nostri amici, comunque, sono il tempo. Il tempo che ci potrebbe uccidere e, ovviamente, i cattivoni che arriveranno durante la notte. Perché, purtroppo, sì, ne arriveranno un sacco di cattivoni durante la notte che cercheranno di farci fuori quei cattivoni. Eh, sono tipo mostri orribili, comunque. E non so se sopravvivremo, veramente. Questa sarà un'avventura esotica. Perché, appunto, siamo in un posto esotico. Infatti, guarda quanto, caspita, è strano il cielo. E siamo solamente noi due, quindi tu devi svegliarti fuori. Sì, lo so che mi devo svegliare, lo so, lo so. Ok, bene, allora inizia a farlo, no? Eh, ma... Tu che dici? Ok, 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 ho preso gli undici log di legno. Ok, allora gli undici log, mettiteli... No, scherzo. Però, praticamente... Ok, vieni con me, bravo, non perderti. Allora, i log sono importantissimi, perché, appunto, riusciremo a craftare qualcosa. Quindi, vieni con me, forza, non perderti i chiacchiere. Ok, arrivo, ma è tipo strano. Vabbè, arrivo. Non intendi tipo strano, cioè? Eh, perché non si può fare a crafting table. Cioè, quando ti metti i log nel... Oh, come ti ho detto di parlare. Per il crafting. Vabbè, ok, quindi non si può... Sì, perché praticamente, guarda, dammi... Dammi il tuo coso. Sì, la mia ascia. Sì, la ascia, ovviamente, dammi. Cosa intendevi dire, stupido? No, dicevo, lascia, cioè, pensavo... Eh, visto. Capito male. Eh, sì, hai capito malissimo. Praticamente... Ma perché ho 64 di... Ma da così tanto? Eh, non è normale questa cosa, eh. 64 di cosa, scusa? 64 di... Ma... Boh, non lo so. Voglio provare? Sì, praticamente, ho scavato un legno. Ma secondo me sì, è tipo... È strano. Allora, praticamente... No, 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 dammi. No, non prende, però. Vedi, c'è. È tutto meglio. Allora... Ma non prende dello stesso. Eh, devi... Oh, sei stupido. Non sai usarle, queste cose. Stupido, comunque. È chiusa. Eh, non posso dirtelo. Perché sei stupido. Allora lo uso io. Basta, ciao. Guardi, sono te. Sì, siamo su un'isola deserta. In fredda alla disperazione, alla fame, alla sete. E questo qua cosa fa? Non mi aiuta nemmeno con niente. Ma vai a quel paese. E sopravvi da solo, dato che non stai fare niente. Eh, lo vedo. Lo vedo. Ma che caspita di libro di sopravvivenza hai studiato tu prima di entrare nella barca? Nessuno. Eh, lo so. Lo so. Infatti si vede che non sei preparato su niente. Quanto fa 2 più 2? Adesso mi risponde pesce come minimo. Ecco, vedi. Cioè, perché è pizza, oh. Manco la matematica. Cioè, beh. Ma 2 per 2 quanto fa? Allora. Cosa vuol dire 2 per 2? Eh, 7 ovviamente. Ah, sì, certo. Sì, ma allora, non ti permettere. Allora, noi siamo qui e stiamo viaggiando alla scoperta dei nuovi mondi che ci sono in questa bellissima foresta. Però dobbiamo trovare, appunto. Eh, ma stai diventando notte. Eh, lo so. Io sto morendo di 7. Infatti dove morirei? Anch'io. A me rimane solo 3 di 7, cioè. Sto morendo. Eh, lo sai che cosa succede di notte, vero? Di notte? I mostri, i mostri. Eh, nelle isole deserte è solito che ci siano mostri strani e cattivi che ci vogliono ammazzare da un momento all'altro. Beh, voglio dirti che questa cosa non è assolutamente contemplabile ed accettabile. Mi interessa. No, dimmi. Eh, però c'è dei mostri. Che tipo di arma hai fatto, dimmi tu? È una clava, tipo wooden club. Sì, una clava, penso. Ok, bene. Allora, oh, bene. Tra l'altro a te? Eh, guarda, io ho già il coltellino. In realtà qui il coltellino si rompe subito immediatamente. Ah, ok. Ho un po' paura, eh. Però, allora, inizia a scavare sotto qua, praticamente. Scava un buco. E direi di indentrarci dentro il terreno. E poi dopo chiaramente cercare anche risorse, tipo con la pietra, no? È presente. Scava di più, stupido ignorante. Di più? Sì, di più, di più. Ok. Eh, c'è un piccone. Ma perché è una coda? Cos'è sta coda? Non ho capito. Vabbè. Adesso il piccone arriva, eh. Arriva immediatamente perché scavo anch'io. Molto bene. E in teoria adesso, ok, mi sta dando questi sassolini. Guarda che è difficile comunque sopravvivere su un'isola deserta. Non è così. Molto, noto, noto. Eh, perché è tutto quanto più strano, più anormale. Cioè, capito? È brutto. Cioè, no, brutto no. Però dobbiamo ritornare, diciamo, alla nostra vita di sassolini. Eh, sì, ma io sto per morire. Perché? Eh, lo ha sete. Ok. Come si beve? Perché non hai bevuto? Dai, per favore. Per favore. Per favore. Allora, sparisci dalla mia vista. Se non sei capace di sopravvivere, ti am... Cioè, ti faccio fuori io così è più breve. Mannaggia a te. Devi sparire dalla tua vista. Eh, ho visto. E fai bene a sparire. Perché, guarda, c'è una domanda del genere. Ma scusami, ma esiste il muscolo shift quando tu bevi? Muscolo shift? Qual è? Eh, qual è? Dovresti saperlo. Quello della gola, ovviamente, idiota. Ah, ok. Vado a bere. Ma allora, scusami. Io ho bevuto. Eeeh, wow. Pazzurdo. Vaio, riparte una cosa buona. Eh, perché tu non ne hai mai bevuto nella vita. Dovessi rinpararlo di nuovo. Ma guarda. Esatto. Esatto. Solo tu potevi farmi nervosire in questo modo. Allora, però, adesso io direi di cucinare un pochettino. Perché abbiamo bisogno di civetto. Ah! Ah! Cos'è? No, mi sta per uccidere. Porca vacca! No! No, vabbè, ma... Sei vivo? Chiudi immediatamente sopra, ma che cosa ti dice il cervello? Non hai blocchi! Non hai blocchi! Ma porca, mi manco questo che fare! Ma il muscolo destino destro! Ah, ok! Devi usare il braccio destro! Dai, l'ho fatto, l'ho fatto! Porca pupola! Ma veramente, oh! Cioè, ma scusa, ma due... Oh, non si può fare affidamento su di niente. Ho preso un verme! Ma che schifo! Cosa me ne frega del verme? Eh, boh, magari lo mangio! Sì, boh, ok, va bene, vai, mangialo, che... No, non si cucina, non si può mangiare! Eh, vedo. Allora, ehm... Beh, io posso cucinare un po' di carnuccia e poi potremmo trovare altre cose, comunque. Sarebbe l'ideale e utile fare questa cosa. Ovviamente, adesso noi ci prepareremo meglio, Nick. E poi dopo usciremo a trovare, chiaramente, anche altre cose, nuove avventure, per poter capire come ritornare a casa. Fare, magari, una barca e ritornare nella nostra dolce casa. E ti ricordi, magari, quel bellissimo computer che noi avevamo a casa e che ora non ce l'abbiamo più, purtroppo. Io me lo ricordo! Eh, lo so, bei tempi, bei tempi, Nick. Bei tempissimi. Erano bellissimi i tempi. Io, intanto, prendo queste cose perché sono utili. E, ovviamente, noi ci... Insomma, magari dormiamo un attimo e poi dopo ci sentiamo. È come si dorme? Eh, non ne ho idea. A bene!